Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo all'Equatore e è un posto veramente bellissimo, siamo a Pontianac e questo è il monumento che sta ad indicare la linea equatoriale. Ecco, oltrepassato questo monumento, siamo, ora attualmente siamo esattamente leggermente a nord, passato l'anello indicante su questo monumento ci troveremo nella parte australe del nostro pianeta.